Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 11, traffico bloccato per lavori tra Lucca Ovest e il raccordo Lucca-Viareggio a 12 in direzione di Viareggio. In Fipilì coda per lavori per due chilometri tra la Strassigna e Ginestra in direzione Mare e verso Firenze tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno. Sempre verso Firenze coda per lavori di un chilometro tra Montelupo e Ginestra. Ora ricordiamo il riferimento ai lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. A Firenze traffico sostenuto per la presenza di tre eventi che apportano disagio alla circolazione. Ci riferiamo alla manifestazione dei metalmeccanici, al disallestimento di pitti immagine uomo e ai concerti del Firenze Rocks. dal Comune l'appello a evitare di utilizzare il mezzo privato e di optare invece per il mezzo pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!